Emozioni da cima a fondo, dalle vette dei monti al mare. L'Abruzzo scende in campo e sfodera una marcatura stretta del turista per l'estate 2019. Fondi raddoppiati da 450.000 a 900.000 euro con risorse europee per colpire il cuore dei vacanzieri. Spot su aerei, treni, nelle stazioni ferroviarie e su web, emittenti tv e radio nazionali, metropolitane, autostrade, contest fotografici e riconoscimenti agli ambasciatori d'Abruzzo per il racconto di vacanza più accattivante, nonché la presenza a Matera, capitale della cultura 2019. La campagna di promozione è stata presentata dall'assessore regionale al turismo Mauro Febo e dal direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Francesco Di Filippo. Il turismo insieme alla cultura, ha affermato Febo, devono tornare ad essere punti cardini della nostra economia. A partire la comunicazione che credo sia essenziale, dobbiamo recuperare il tempo perduto, abbiamo messo in piedi una bella struttura con fondi importanti, abbiamo raddoppiato i fondi rispetto agli anni passati perché abbiamo fatto una variazione all'interno dei finanziamenti europei, quindi non spendiamo i soldi degli abruzzesi, non spendiamo i soldi dei cittadini, ma spendiamo i fondi europei. Abbiamo dovuto attendere il comitato di sorveglianza del 9 e del 10 aprile per stanziare altri fondi importanti per la prossima programmazione. Partiamo con questa campagna estiva coinvolgendo le tre reti della RAI nazionale, le tre reti di Mediaset, tutte le radio, coinvolgiamo le stazioni di rifornimento di ben sette regioni, coinvolgiamo la RFI, coinvolgiamo gli aeroporti, insomma l'Abruzzo che esce fuori dai convini regionali in maniera importante e in maniera incisiva. È un primo passaggio, ne seguiranno altri molto importanti. In Abruzzo, ha concluso l'assessore regionale Febo, abbiamo una straordinaria quantità di prodotti turistici da valorizzare, dobbiamo invertire il passo e le parole chiave sono sostenibilità, innovazione e sviluppo, che devono continuare a segnare il cammino intrapreso. La materia in questo momento rappresenta la capitale della cultura, ci saranno milioni di visitatori, e l'Abruzzo non farà mancare la propria presenza per mostrare anche le proprie bellezze, così come non faremo mancare la presenza sulle testate nazionali.